Cosa hanno detto di loro? Francia I testimoni di Geova sono cittadini rispettosi delle leggi della Repubblica. Non costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico. Lavorano, pagano le tasse, partecipano allo sviluppo economico del nostro paese e fanno della beneficenza. Fa davvero piacere vedere queste persone di ogni razza e provenienza che stanno pacificamente insieme. Se tutti fossero testimoni di Geova, noi poliziotti saremmo disoccupati. Portavoce di un sindacato della polizia francese. I testimoni di Geova sono fermamente convinti che il Creatore conosce meglio di chiunque altro i principi da cui gli esseri umani dovrebbero farsi guidare. Isaia 48, 17 e 18 Pertanto, quando vengono illogiati a motivo della loro condotta, danno il merito a Lui. In Matteo 5, 16 Gesù disse Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre eccellenti opere e diano gloria al Padre vostro che è nei cieli.